però poi c'è una massina ecco guarda, guarda come diventa infatti io così l'ho vista e poi ovviamente tra questa che è fresca e quella che è stagionata ci sono tutte le possibili variabili poi c'è anche questa che è la più stagionata ecco, vedi quella ancora che stagionata guarda che bella sentite l'odore del timo non so se riuscite a... nell'aria si sente? sì io non ci sento timo ecco comunque io lo sento forte non so se voglio uscire ma forzare questo odore grazie